Un impegno a tutto campo, quello della Guardia di Finanza contro la criminalità economico-finanziaria, tutela di cittadini e imprese con uno sguardo al futuro, però specializzandosi sempre più sulle truffe in rete molto numerose. Un bilancio tracciato dal comandante regionale Gianluigi D'Alfonso in occasione del 248esimo anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza celebrato all'Aquila. Il contrasto all'infiltrazione della criminalità economica organizzata rimane la principale mission, con ben 3.575 interventi portati avanti dalle fiamme gialle, forte il contrasto alle frodi sui crediti d'imposte all'evasione fiscale, con la scoperta nel 2021 e sino al 31 maggio 2022 di 110 evasori totali. Grande l'impegno a tutela della spesa pubblica, le frodi scoperte da reparti abruzzesi in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a oltre 7 milioni di euro, con oltre 2 milioni nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con 207 denunce, poi appalti, corruzione, con 114 denunce e 7 arresti. Molta attenzione alla tutela del mercato dei capitali, con tanti interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, in applicazione della normativa antivafia, accertamenti su 289 soggetti, 4.876 accertamenti su indicazione delle prefetture, per rilascio delle documentazioni antimafia, tra le mission anche il controllo del territorio e il contrasto ai traffici illecidi via mare, oltre alle missioni internazionali in atto e alle attività del soccorso alpino. Le nostre attività, come sapete, si sono concentrate nella lotta all'evasione fiscale, illusione fiscale, frodi fiscali e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria. In quest'ultimo settore mi preme sottolineare la collaborazione che abbiamo avuto con l'autorità giudiziaria, soprattutto nell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, che sono quelle segnalazioni che ci arrivano e possono essere sintomo di attività di antiriciclaggio. Negli ultimi due anni le attività della Guardia di Finanza con la pandemia e la guerra in corso si sono pure rimodulate, tanti controlli sugli aumenti di carburanti, ma la sfida del futuro parla anche di contrasto alle truffe via rete con il bitcoin, la nuova criptovaluta. Mi preme segnalare tutte le attività che stiamo sviluppando per contrastare frodi finalizzate a rincarare i prezzi a danno dei consumatori. In particolare, come sapete, abbiamo sviluppato molti controlli sui traffici illeciti di carburanti e di prodotti petroiferi, soprattutto con i reparti di Pescara, Teramo, Chieti. Le nuove sfide sono sicuramente quelle che provengono, ad esempio, dal campo digitale, quindi le nuove frodi che si realizzano attraverso internet. Ad esempio, noi sappiamo che c'è questa nuova valuta bitcoin che può, attraverso anche manovre che si avvalgono della rete, può sottrarre grossi quantitativi di reddito, in quanto maggior parte di queste società che operano con le criptovalute sono all'estero, con finalità anche di antiriciclaggio.